Vincenzo Catagnolo, uno dei sicuri protagonisti di questa squadra, ha dato l'anima dall'inizio alla fine e finché non abbiamo colto il meritato frutto della promozione. Certo, lo sapevamo che era dura, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo una squadra compatta, l'abbiamo dimostrata in campo. Speriamo di fare bene anche l'anno prossimo. È stata un'annata comunque che ha riservato tantissime. Sì, un'annata che ha incorniciato, è stata bella. Il gruppo c'era, anche se a volte eravamo discontinui, ma il gruppo c'era. Ha dimostrato di poter andare in C2 tranquillamente. Avete anche dimostrato che la partita di pochi giorni fa ad Ischia era soltanto un incidente di percorso. 28 punti che non mi rendono l'idea. No, 28 punti tra noi e loro non c'erano assolutamente. È stato un passo falso a Ischia, magari siamo andati molto più rilassati. Poi altrimenti quando giochiamo in casa con questo pubblico non possiamo perdere. Vincenzo, previsioni per il futuro? Ma vedremo, accettiamo offerte per il futuro. Spero di rimanere a Sanno, perché è una bella piazza, c'è un ambiente. Speriamo bene. Ok, grazie Vincenzo, buca al lupo. Grazie, ma crepi.